Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi un nuovo video a tema Pokémon. Come vi dissi nei video precedenti ho comprato tanta, ma tanta, ma tanta, ma tanta roba a tema Pokémon. E quindi i video che seguiranno saranno tutti a tema Pokémon, saranno tutti spacchettamente. Spero che la cosa ti piaccia. A me piace parecchio. Oggi ragazzi andiamo a spacchettare il Minitin di Dragonite. Questo Minitin contiene al suo interno due pacchetti e una moneta. Adesso andiamo subito ad aprirlo con il nostro taglierino. Così evitiamo di fare danni. Per di rovinare la confezione. Che comunque è molto carina, io le colleziono. Ve la faccio vedere anche così. Questa è molto carina. Questo Dragonite in rilievo. Andiamo ad aprirla. E vediamo quali pacchetti ci sono, di quali espansioni. Allora, il primo pacchetto... Ah no, sono tutte e due uguali. Quindi solo... Ah no, ok, sono diversi. Sole e luna, ombre infuocate. E sole e luna, guardiani nascenti. Dentro abbiamo questa carta. Con tutte le info legate al Pokémon. In questo caso Dragonite, ovviamente. E la moneta. No, ve l'ho messa al contrario. Molto molto carina. Ne ho 2000, ma va bene. Adesso, io direi di andare a spacchettare i guardiani nascenti. Quello che mi ispira un po' di più. Probabiliamoci se troviamo qualcosa di carino. Allora, innanzitutto il codice. Per voi ragazzi, ve lo regalo. Poi... Io queste ve le schippo ragazzi. Queste comunelle. Allora, abbiamo qui un Clefairy. Reverse. Comune, ovviamente. Vediamo dietro cosa c'è. Boom! Ninetales di Alola GX. Full art, ragazzi. Guardate quanto è bella. Che spettacolo. Lo sentivo, mi ispirava al pacchetto. Se l'avevo detto. Mi ispirava tantissimo. Adesso abbiamo Sole e Luna ombre infuocate. Con Marshadow. Chissà se non ci riservi. Magari anche questa è una sorpresina. Spero tanto. Allora, iniziamo dal codicino. Ve lo regalo ragazzi. Tutto vostro. Si legge? Messa a fuoco? Poi. Comunelle, comunelle, comunelle. Oh, carino. Pikachu Reverse. Molto carino. Questo lo regalo al mio amico Stefano. E la rara è un... No, vabbè, regà. Ma che... Ma che sta succedendo? Ma che sta succedendo? No. Assurdo. Marshadow GX. Ragazzi, è assurdo. Cioè, questo Minitin è qualcosa di incredibile. No, vabbè, ragazzi. Ve le faccio rivedere tutte e due. Marshadow GX. No, vabbè, ragazzi. Guardate quanto è bella. No, vabbè, ragazzi. Cioè, il Nineteenth di Alola GX. Pularte è qualcosa di incredibile. Cioè, santo Minitin, ragazzi. È incredibile. Non mi è mai successo una cosa del genere. Bene, ragazzi. Io credo che possa finire qui. Abbiamo dato abbondantemente con la nostra dosi di culo. Quindi, se il video vi è piaciuto, come sempre, lasciate un bel like al video. Iscrivetevi al canale, se ancora non l'avete fatto. E soprattutto, cliccate sulla campanella per attivare le notifiche e non perderti nessuno dei miei video. Che dire, ragazzi. Sono contentissimo. Guarda, ve le faccio rivedere. Ovviamente, ragazzi, continuate a seguirmi perché ne vedrete davvero delle belle. Per oggi è tutto. Io vi abbraccio e vi ringrazio. E ci vediamo in un prossimo video. Ciao!